Bisogna distinguere in due grandi concetti, tra l'Europa e l'Unione Europea. Sono due cose distinti. L'Europa è quella delle radici, è quella dei valori, è quella dei popoli, è quella del rispetto delle lingue, dei dialetti, è quella del rispetto delle regioni. Quella è l'Europa dei popoli. L'Unione Europea invece è un concetto politico che negli anni, e lo ha detto anche Raffaella, si è allontanata dal concetto dell'Europa. E allora, noi non siamo più europeisti, siamo più europeisti di quelli che ce lo dicono. Perché vogliamo avvicinare il concetto di Unione Europea, quanto più al concetto alto e supremo di Europa, con la E maiuscola. L'Europa non nasce con l'Euratom, la Cepa. L'Europa nasce duemila anni fa, con, anzi nel V secolo a.C., in Grecia, con la cultura cattolica, con la cultura cristiana, con le radici giudaico-cristiane che l'Europa ha e deve difendere. E allora in Europa si devono andare per difendere l'Europa, con la E maiuscola. I burocrati dell'Unione Europea, che invece fanno la guerra all'Europa, sono un'altra cosa.